Nell'ambito dell'inchiesta sulla sanità lombarda che ha portato all'arresto per false fatture e fondi neri dell'imprenditore Pierangelo D'Acco e dell'ex direttore finanziario dell'ospedale San Raffaele Mario Valsecchi spuntano nuovi particolari che riguardano Roberto Formigoni. Il governatore nella primavera del 2011 avrebbe infatti versato al suo coinquilino e amico Alberto Perego circa un milione e centomila euro. Perego una settimana dopo ha poi usato quel denaro e ha acceso un mutuo di un milione e mezzo di euro per acquistare una lussuosa villa di 13 vani in Sardegna da una società dietro la quale c'era proprio D'Acco. Ora l'acquisto di quell'immobile è finito all'attenzione degli inquirenti che vogliono capire anzitutto se la cifra pagata era congrua al prezzo di mercato o Perego ha ottenuto un maxisconto di favore e come mai la villa è stata ceduta solo nel 2011 mentre gli altri due lotti costruiti insieme ad essa nel 2006 erano stati venduti appena un anno dopo. Peraltro sempre nell'ambito di questa inchiesta da quanto si apprende D'Acco che in Lombardia era conteso dai principali ospedali come consulente proprio in virtù dei suoi rapporti privilegiati con i vertici regionali in un verbale aveva spiegato di aver messo a disposizione di formigoni ai Caraibi uno yacht da giugno a settembre e per tre capodanni senza chiedere nulla in cambio. Il governatore Lombardo che non è indagato ha finora respinto con forza tutte le accuse sostenendo che si tratta di attacchi destinati a finire nel nulla e spiegato che è pronto a lasciare la guida della regione nel caso in cui venisse provato che D'Acco ha ottenuto trattamenti di favore dal Pirellone. Fino ad allora però le continue richieste di dimissioni avanzate dalle opposizioni sono destinate a cadere nel vuoto.